L'attesa è dunque finita, finale Coppa Provincia di Latina dal Palapontina, più cordiale buonasera da Daniele Porcelli. Ricordando che le riprese esterne sono affidate a Giulia Onorati per questo atto conclusivo del campionato di Serie D nella provincia di Latina. Si gioca appunto la finale per determinare la squadra vincitrice della competizione. Il sabato è tutto pronto, parte in questi istanti il condico Sperlonga. Vaccaro, palla recuperata da Cristian Lampardo, della parte opposta e c'è il gol, il vantaggio di Uccellini. Secondo fallo, Mattarelli recupera il pallone, poi al centro per Uccellini. Non è vinta, viene avanti di Trocchio, prova il tiro. La rincorsa di Cristian Lampardo, ci ha provato dalla Zanna, perde l'attimo della scoccata a rete. Lampardo recupera il pallone, la ribattuta di Rosato. La rincorsa Arquada, il mancino, fuori dallo specchio. Ha sentito forse un disturbo però è tornato in campo quindi nulla di grave. Mattarelli, ci ha provato. Poi si può riprendere a gioco, la finta di Marrocco all'indietro per Rosati. Per dalla Zanna, Pardo, non casca nel tranello di Trocchio per Marrocco. E c'è il gol del pareggio su calcio d'angolo. Lo vuole fare in maniera un po' più consistente. Mattarelli recupera il pallone, se ne va verso Rosato. In mezzo recupera poi Rosati. Pischio, la rincorsa di Mattarelli. Il tiro direttamente a rete, la ribattuta di Rosato. Sul rispetto a quella di prima. Mattarelli, la risposta di Rosato. Mattarelli all'indietro per dalla Zanna. La fiondata, la risposta di Rosati. All'indietro per dalla Zanna. Mattarelli. C'entra la posizione, c'è il gol. Il gol del vantaggio di Bartoli. La difesa anche che se proprio all'ultimo, agli ultimi secondi può ancora... C'è il gol. Praticamente la fotocopia del gol del vantaggio nel primo tempo del 2-1. Questa volta Cacciapodi va a cogliere Mattarelli. Quale sarà la reazione adesso dell'Atletico Sperlonga? Che ci prova, continua ad insistere per Chinappi di Trocchio. Poi scivola sul parcheggio e l'autorete di Bartoli. E torna in partita l'Atletico Sperlonga. Gestendo bene il pallone all'indietro per dalla Zanna. Bartoli alla sinistra. La finta fa partire il tiro. Più velocizzare la manovra. Cepa all'indietro per Marocco. Accentrato di Trocchio. La finta con il corpo. Sono in carica Bartoli all'indietro per Pardo. Carica il tiro. La risposta di Rosato. Sicuramente saranno da recuperare. Di Trocchio il tiro. Fuori di poco. Adesso ancora l'Atletico Sperlonga. La palla in mezzo. C'è Mattarelli. Che ci prova la distanza in rete. Il gol che a questo punto, crediamo, metta fine a questa contesa. Fuori oltre l'ostacolo da parte dell'Atletico Sperlonga. Avere il triple cefischio. La polisportiva Stella vince la Coppa Provincia di Latina. stagione 2015-2016. A questo punto possono partire i festeggiamenti giusti e doverosi per la squadra che è riuscita a vincere questa finale in questa stagione veramente estenuante. La polisportiva Stella vince la Coppa Provincia di Latina. stagione 2018-2016.